Il giorno dopo raccogliamo i danni, non nego che vedere distrutto quello che uno crea lascia amarezza. Sono ancora le aziende Orafe e Aretin a finire nel Merino dei Ladri e cresce così di nuovo la preoccupazione dell'intera categoria. L'ultimo assalto nella notte tra martedì e mercoledì a Ponticino lungo la Sette Ponti. Non è più l'episodio del piccolo furto ma appunto sembrano bande specializzate in questo tipo di assalti. Un colpo studiato nei minimi dettagli, la banda ha sfondato con un trattore rubato i cancelli e il portone principale dell'azienda ma è scattato l'allarme. Si sono dovuti arrendere a quello che è il nostro sistema di sicurezza, la loro presenza è di 3-4 minuti. I malviventi prima si sono barricati dentro, sprangando il portone con delle catene, poi si sono dati alla fuga seminando chiodi per evitare di essere inseguiti. È stato abbastanza impressionante vedere che hanno dei sistemi, insomma sicuramente nel loro operare sono preparati. Ingenti, danni, magro e invece il bottino. Non hanno porto via neanche un grammo d'oro? No, no. La stessa azienda era già finita nel mirino dei ladri tre anni fa. In quel caso i malviventi si erano calati dal tetto. In corso adesso le indagini portate avanti dai carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Continuiamo ad investire in sicurezza, in impianti di allarme all'avanguardia, in videosorveglianza e speriamo che uniti di riuscire a evitare che vadano a buon fine.